Il 26 settembre di 13 anni fa, un lunedì mattina, la redazione di Telestense sapeva che al primo punto dell'agenda della giornata doveva esserci la morte di un ragazzo scoperta il giorno prima, che sembrava un'altra vittima di droga, un ingenuo consumatore, una serata fuori controllo, gli amici impauriti si diceva che lo avevano abbandonato neppure vicino a casa. Una disgrazia. La città non sapeva che di lì a pochi mesi si sarebbe trovata dentro ad uno dei casi umani e giudiziari più tragici e per la città più traumatici degli ultimi decenni. A farlo scoppiare fu la mamma di Federico Drovandi, questo il nome dello studente diciottenne morto davanti ai poliziotti che cercavano, secondo una successiva versione ufficiale, di trattenerlo mentre dava in escandescenze. Il blog di mamma Patrizia accese le coscienze, attirò l'attenzione dei media e della politica, dei parlamentari e delle istituzioni locali. L'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia, che non si piegò mai di fronte al muro di omertà e di bugie che gli fu opposto da tanti uomini delle forze dell'ordine, fu l'anima del risveglio della città e del paese. Il processo, che portò alla condanna dei quattro poliziotti responsabili della morte di Federico Drovandi, è durato pochi anni e non ha lasciato dubbi. Il 6 luglio 2009 i quattro poliziotti vennero condannati in primo grado tra anni e sei mesi di reclusione, per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Il 21 giugno 2012, dopo l'Italia giudiziaro, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna. I dubbi continuano ad alimentarli semmai la legge sulla tortura, che approvata nel 2017, dopo molti anni di attesa e un infinito dibattito, ha finito per scontentare tutti, in particolare chi l'ha proposta, non riconoscendo, come tortura, l'uso della violenza e l'abuso di potere quando rendersene colpevoli sono uomini della legge. La vicenda di Federico ha segnato una famiglia per sempre, ma ha segnato anche la città. Ferrar allora imparò a godarsi dentro, guidata fortunatamente da istituzioni che non esitarono a mettersi dalla parte della vittima. La tragedia di Federico ha segnato il paese, che da allora, grazie in gran parte all'avvocato ferrarese Fabio Anselmo, al nostro concittadino, ha capito che non ci sono barriere insormontabili se c'è la volontà di arrivare alla verità. Dopo altrovandi, la vicenda di Stefano Cucchi ha messo in scena un'altra grande battaglia combattuta da una famiglia di Anselmo per far emergere la verità. Ma le tragedie non si riparano. Resta a confrattarci il fatto che le battaglie combattute per ottenere giustizia sono fonte di speranza e di fiducia per le donne e per gli uomini di buona volontà. La verità può solo risarcire la memoria delle vittime, non il dolore di chi resta. È già qualcosa e non è da sottovalutare.